... ... ... ... ... ... ... è finito è morto il cielo non è finito tu che hai studiato la pre-storia ma che succede? eh, lui gli soffia nell'orecchio e perché? perché così ritorna a vita nuova ma perché nell'orecchio? eh, perché che cazzo hai studiato? che cazzo che cazzo hai studiato? dio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.